Se la vostra auto aspetta un bambino, non rinunciate alla sicurezza di Kiko Transit, perché Kiko Transit è omologato a norme di sicurezza della comunità europea ed è Kiko, perché è regolabile in 18 posizioni diverse, dal gioco alla nanna, perché è semplice e rapido da usare, perché Kiko Transit ha tutto quello che desiderate, eccetto lui, che è il mio. Kiko Transit, la strada della sicurezza. C'è una linea che dice come vivi, mangia leggero, fai un po' di movimento e bevi tutto il giorno. Acqua minerale Boario Silia, se la bevi, si vede. Soltanto quando è morbido, il gorgonzola diventa Jim, dolce e cremoso con la classica goccia, perché soltanto se c'è la goccia è Jim. Sono sempre felice di darvi buoni consigli, quando si hanno tante proposte c'è solo l'imbarazzo della scelta, ma per questa primavera vi consiglio gli stampati a fiori o a qua, o se preferite i completi potete scegliere fra quelli in purolino o quelli nelle fantasie anni 60. Quanto vale tutto questo? Beh avete visto i prezzi no? Perché alla standa conosciamo bene il valore dei soldi. Stam, il valore dei soldi. Vuoi un asciugamano che sia solo tuo? È mio? Questo è solo tuo. Solo tuo Zucchi, l'asciugamano con un segno di riconoscimento, il tuo. Cuor di caffè, il tartufo bianco della sorbetteria di Ragneri. Una dolce leggenda italiana.